Ciao a tutti e benvenuti su Laskin, io sono Natrice mentre questo è... In pratica adesso stiamo di notte quindi è meglio se mi sto zitto se non parlo troppo ad alta voce Comunque vada ragazzi, io che in pratica mi stavo già preparando per andare a dormire Giusto per fare queste cose adesso che è mezzanotte Sono andato a controllare un attimo su Steam e ho visto che è uscito il trailer di FNAF World Allora in pratica cosa sono andato a fare? Sono andato ad accendere direttamente sulla pagina di Youtube E ho pensato, eh ma perché non farci una sottospecie di reazione? Al trailer che è letteralmente uscito adesso Comunque è uscito adesso già 104.000 visualizzazioni però vabbè facciamo finta di niente Vabbè ragazzi quindi io adesso direi di non perdere tempo e passiamo subito alla reazione diciamo di questo video Quindi io accendo, vai, adesso Ok abbiamo una faccia di Freddy, una maschera di Freddy Ti hanno stalkerato, stalkerato La maschera di Shika, fantastico Ti hanno spaventato Ti hanno preso la caccia a te Tipo Vabbè Ti hanno pure stuprato, metteteci adesso vai Ti hanno pure stuprato Però adesso sono carini What the Ok Ok la pizza Non devo ridere la data Ma che cazzo Cazzo è Frendi Frendi Fazz Sbogni Chica Foxy I toy freddi E la madonna Mettiamoci tutti quanti allora a sto punto Oh calmi Oh calmi Nooo Cosa c'entra? Fantastico No ragazzi Io veramente non so se ridere o piangere Allora A nulla A nulla Io veramente ragazzi non so se ridere o piangere Allora innanzitutto mettiamo mi piace perché sì Ok Ragazzi in pratica che cosa vi posso dire? Cioè Diciamo sicuramente non me l'aspettavo che fosse una cosa del genere Con che vada Non lo so Sono senza parole Di sicuro ci giocherò Cioè quello la farò di sicuro proprio con FNAF World Ci farò una partita ma Quanto vi pare Mi pare tanto lo stile di Una specie di fusione tra Pokémon e Final Fantasy Ma quello vecchio Non so se avete presente Boh Non ne ho più panni di idea ragazzi Il trailer è questo Non so che dire Volevo fare anche il gameplay del Del 4 Della versione Halloween Che però uscirà probabilmente O uscirà oggi dopo Oppure uscirà Domani No ma sicuramente uscirà oggi Perché voi in teoria Lo vedrete Questo Tipo lo vedrete alle 10 di mattina Roba varia questo video Comunque scusate Se continuo a parlare a bassa Ma purtroppo dormono tutti Comunque vada Dovrebbe uscire Se ce la faccio A registrarlo Perché lo registro domani mattina Perché come vedete Non vedo Non vedo l'update Ho controllato il gioco È ancora la versione 1.022 Ed in pratica domani dovrebbe uscire anche Come diciamo bonus No in teoria è questo qua il bonus Però lo metterò prima Così vabbè Domani uscirà Domani ovvero oggi 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 Uscirà anche il video Su FNAF Halloween O quel che sarà Vediamo se si potrà anche aprire la cassa Comunque vabbè Vedrete tutto quanto nel prossimo video che farò Quindi ragazzi Io come sempre Spero che questo video Non parlo Non so parlare Quindi ragazzi Io come sempre Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Date una zampata Su mi piace Lasciate un commento Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao